La nostra partecipazione a questa manifestazione di Terra Madre è legata all'importanza della promozione del territorio del parco, oltre che per gli aspetti naturalistici e anche per gli aspetti più legati alle tradizioni culturali e gastronomiche. Ma siamo qui anche per sottolineare l'importanza di una visita del parco in momenti diversi dalla grande stagione estiva, per vedere le bellezze del parco e cercare di diversificare l'affluenza del turismo nei mesi autunni-invernali, dove peraltro si vedono degli spettacoli unici che vengono poco sfruttati e poco goduti dal grande pubblico.